L'amministrazione comunale di Pescara ha detto sì al biodigestore per il trattamento dei fiuti. Sindaco sono in arrivo i primi fondi per la costruzione di questo impianto? Sì, noi stiamo disegnando il futuro e non da oggi. Oggi si parla molto di energia, di necessità, di fonti alternative, di situazioni nuove. Questa è una situazione nuova per il nostro territorio. Abbiamo ottenuto già da diversi mesi un finanziamento dalla BEI, dalla Banca Europea degli Investimenti, di 35 milioni di euro per interventi per l'efficientamento energetico nelle scuole e per la realizzazione di un impianto di biodigestione che permetta di smaltire i rifiuti senza inquinare e con la produzione di energia. Siamo al futuro e io sono molto soddisfatto di questo, anzi direi orgoglioso perché oggi finalmente possiamo dire ai nostri concittadini, ma non solo a quelli di Pescara, a tutti quelli del comprensorio della provincia di Pescara che noi in un tempo relativamente breve, con la realizzazione del biodigestore, abbatteremo i costi dello smaltimento dei rifiuti tra il 40 e il 50%. Oggi noi paghiamo circa 130 euro a tonnellata, passeremo a 60-70 euro e pensiamo che quei 130 euro che paghiamo oggi potrebbero anche aumentare con quello che sta succedendo e lo vediamo tutti quanti. Invece con la realizzazione del biodigestore abbatteremo drasticamente questa spesa. Bollette più leggere? Bollette più leggere perché questo è l'obiettivo che noi vogliamo cogliere per i nostri concittadini, ma soprattutto andiamo verso una nuova dimensione perché purtroppo lo smaltimento dei rifiuti si è fatto sempre in questo territorio con le discariche e noi passiamo ad un'altra modalità che ci permetterà di smaltire tutti i rifiuti di quest'area e non soltanto di quest'area perché il biodigestore che realizzeremo potrà smaltire 60.000 tonnellate senza inquinare affatto, tant'è che questi biodigestori sono approvati da Lega Ambiente. Andiamo verso uno smaltimento che è assolutamente naturale, che produce oltretutto energia. di un'altra modalità di energia. Grazie a tutti.